La regione taglia 40 milioni di euro di farmaci per i cittadini, ad affermarlo il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, che oggi in conferenza stampa ha voluto evidenziare come l'Abruzzo sia maglia nera a livello nazionale per quanto riguarda l'acquisto dei farmaci, che resta una delle più importanti voci di costo della nostra sanità. Abbiamo scoperto che c'è stata una delibera di giunta regionale del 6 maggio 2019 che prevede un tetto di spesa e quindi un taglio lineare di 40 milioni di euro sulla spesa farmaceutica. Inevitabilmente questo provocherà che ci saranno medici prescrittori che potranno prescrivere molto meno e ci saranno meno farmaci all'interno delle strutture. E' un problema serio perché noi riteniamo che per adeguarsi agli standard delle altre regioni italiane non si deve tagliare in maniera ragioneristica sulla pelle dei cittadini che troveranno meno farmaci. Già sappiamo quel problema perché più volte i cittadini hanno denunciato che dovevano portarsi i farmaci da casa nelle strutture ospedaliere e non solo. Noi avremmo programmato in maniera strategica, fatto cosa? Imponendo l'adozione del farmaco monodose a dose unitaria che sta facendo risparmiare alle regioni virtuose d'Italia il 20%, proprio quello che si chiede di tagliare in Abruzzo. Perché non si usa il farmaco monodose? Sono anni che lo stiamo chiedendo e lo chiediamo anche adesso, in questo momento, la nuova amministrazione regionale, la informatizzazione e digitalizzazione per sapere la vita del paziente, poi la formazione, l'informazione. Chiediamo un imponente investimento sociale sull'informazione e sugli stili di vita sani perché sullo stile di vita sano si può far ricorrere molto meno all'uso e all'abuso di farmaci da parte dei cittadini. Poi un problema, io sono preoccupato di una cosa, che con questo taglio ai 40 milioni di euro il cittadino che avrà soldi andrà a comprarsi i farmaci in farmacia. Chi non avrà soldi rinuncerà all'acquisto di farmaci e rinuncerà alle cure. Questo sarà l'effetto nefasto che mi preoccupa.